Un progetto per un avio superficie tra Cerce Piccola e San Giuliano del Sannio e quanto in arrivo nei prossimi giorni sui tavoli regionali all'attenzione del presidente Toma e dell'assessore Niro. Si tratta di un mini aeroporto destinato a velivoli di piccole dimensioni ma con una importanza strategica in settori della vita civile ed una possibilità di sviluppo in quello passeggeri. Il progetto nasce da un'idea del comandante Emilio Carosella. L'avio superficie, il progetto è nato nei primi di agosto del 2017 attraverso un invito dei comuni di San Giuliano e Cerce Piccola che io ho percepito subito come una buona idea e da quel momento abbiamo preparato il necessario per poter valutare se era presentabile alle autorità istituzionali locali. L'area, ripeto, è l'area di San Giuliano e Cerce Piccola dove è previsto un avio superficie con una lunghezza di circa 1.500 metri e larghezza circa 35 metri. Importante è la funzione dell'avio superficie in settori come quelli della protezione civile e della sanità. Eventi naturali e necessità di tempi brevi come nel caso di espianti fanno parte ormai della quotidianità. Il progetto è nato su due pilastri che è la protezione civile e la sanità. In questo contesto c'è anche da non dimenticare che noi siamo una regione sismica e facciamo parte di un piano evacuazione che, se ricordo bene, è il piano evacuazione del Vesuvio. Non dimentichiamo che siamo soggetti purtroppo anche agli incendi. Quindi i velivoli che potranno utilizzare questa superficie, se manterremo un parametro tecnico che è quello che ho previsto, non devono superare i 20.000 chili. Se entro due o tre anni ci fosse la possibilità di avviare un discorso di qualche volo di linea, noi utilizzeremo apparati, cioè apparecchi, che non superano quel peso con una capienza massima di 40 posti. Adesso, una volta sui tavoli regionali, c'è da capire la tempistica di un progetto la cui stima di realizzazione è valutata sui 4 milioni e mezzo di euro.